Ieri si è fatto vedere poco, ma all'aeroporto di Fiumicino tutti parlavano di lui. Le immagini del pugno che sabato pomeriggio ha sferrato contro un cliente hanno fatto il giro d'Italia. Lui si chiama Stefano Miconi, ha 59 anni, è un tassista e la sua licenza è la numero 117. Adesso gli è stata sospesa, ma il suo avvocato si è già affrettato a dire che il permesso gli potrà essere revocato solo a processo concluso. Intanto il comune di Fiumicino ha emesso per lui un obbligo di allontanamento di 48 ore. Sarà il questore poi a valutare l'eventuale prolungamento. Per il momento il tassista è indagato per lesioni gravi con l'aggravante dei futili motivi. Si difende, riferiscono i colleghi, dicendo che quell'uomo gli stava danneggiando l'auto. Le immagini però sembrano raccontare un'altra storia. Si vede il passeggero appena atterrato da Madrid che bussa sull'unotto posteriore dell'auto e il tassista che all'improvviso scende infuriato e gli sferra un pugno in faccia. La vittima, un uomo di 65 anni, anche lui tassista fino a pochi anni fa, ha rischiato di perdere un occhio. I medici gli hanno dato 70 giorni di prognosi.